Cantù Arena S.P.A. si è aggiudicata la gara per la realizzazione e la gestione del palazzetto della città del mobile. Lo fa sapere l'Associazione Temporanea di Imprese con una nota spiegando che la provincia di Como, in qualità di stazione appaltante, ha comunicato l'aggiudicazione definitiva a Cantù Arena con conseguente provvedimento di efficacia della gara per la progettazione e realizzazione della nuova arena di Cantù. Le verifiche dell'ingente documentazione presentata per la partecipazione alla gara hanno dato infatti esito positivo per tutti i soggetti coinvolti. Dunque nei prossimi giorni si arriverà la firma della convenzione tra il comune di Cantù e la società per la realizzazione e la gestione dell'opera. L'obiettivo, come già annunciato nelle scorse settimane da Cantù Arena, è iniziare gli interventi di demolizione entro la fine di febbraio e poi partire con la costruzione del palasport che avrà una capienza di 5.200 posti. La durata dei lavori, secondo quanto previsto, dovrebbe essere di due anni. L'area di intervento si estenderà su una superficie di 27.910 metri quadrati e la struttura si svilupperà su tre livelli, seminterrato, piano terra e primo piano. Il palazzetto includerà un'arena sportiva polifunzionale, un campo di allenamento, spogliatoi, locali accessori, uffici amministrativi, area stampa, bar e ristorante, merchandising e biglietteria. Un impianto che, secondo il progetto, non sarà dedicato soltanto alle gare della squadra Brianzola, ma che potrà ospitare eventi di ogni tipo a partire da spettacoli e concerti.